Il Comibleo torna a sollecitare una serie di iniziative che risultano essere fondamentali per la città antica nell'ottica di una programmazione destinata a diventare di valore cruciale per il futuro, iniziative che hanno a che vedere con tutta una serie di questioni che da tempo sono state sollevate e che ancora oggi non hanno trovato una soluzione. Da tre mesi, dicono dal Comitato Spontaneo di Residenti della Città Antica, sono infatti sospesi i lavori di miglioramento sismico all'edificio scolastico Giovanni Pascoli di Ibla. Da qualche settimana poi risultano essere sospesi i lavori del Giardino Iblea, abbandonata alla meno peggio. Nei giorni scorsi, altresì, la postazione del 118 di Ibla è rimasta priva di erogazione idrica con tutte le conseguenze del caso. Addirittura i vicini di casa si sono adoperati per rifornire gli operatori. In questo senso la richiesta è soltanto una. Quanto tempo ancora occorre per realizzare la derivazione idrica per il 118 indipendente dall'edificio scolastico? Tutte sollecitazioni indirizzate all'amministrazione comunale per far sì che possano arrivare i riscontri attesi, come tra l'altro si attendono riscontri anche su altre questioni che sono già state sottoposte all'attenzione del Comune sempre da Comibleo nelle scorse settimane.